Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono Fiona, ci troviamo di nuovo al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Sono in questo preciso istante allo stand di Vodafone perché ho trovato una cosa interessante da raccontarvi. Si chiama Flying Crowdcell. Si tratta di un drone con attaccato un extender. Serve in questo modo a poter portare la rete wifi anche lì dove non c'è. Facciamo alcuni esempi. Se c'è un evento molto grande come per esempio il Mobile World Congress e le celle non bastano, quindi il wifi non è abbastanza potente per tutti, viene potenziato con questo drone. Il drone è statico ed è attaccato con un cavo alla batteria, quindi tendenzialmente può rimanere lì all'infinito perché la batteria non si scarica. Altro utilizzo di questo drone con l'extender è per esempio nei disastri naturali, durante i terremoti, quando ci sono delle operazioni di soccorso per esempio. Quindi se c'è qualcuno sotto le macerie e quindi non c'è più wifi, rete, non c'è più niente, la rete può essere portata attraverso il drone nelle zone dove c'è necessità. Quindi questo è molto utile per questo tipo di problematiche. Direi che dallo stand di Vodafone è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!